La ricerca scientifica degli ultimi anni ha messo in evidenza una nuova modalità di comunicazione tra le cellule caratterizzata dal rilascio di micronavette che contengono DNA, RNA oppure anche lipidi e proteine in grado di influenzare il destino delle cellule. Queste nanoparticelle naturali vengono definite vescicole extracellulari e sono molto importanti sia per quanto riguarda l'omeostasi dei tessuti e quindi anche nel favorire la rigenerazione tessutale, ma sono anche altrettanto importanti in processi patologici come l'infiammazione cronica. Diversi studi confermano il ruolo delle vescicole extracellulari nel modulare la risposta immunitaria, ma anche nella genesi e formazione dei tumori, così come nella risposta ai chemioterapici e non in ultimo nelle patologie neurodegenerative. Parlare oggi di ricerca vuol dire parlare di innovazione tecnologica e quindi è fondamentale avere un adeguato supporto economico. Per questo motivo ringraziamo di cuore il 5x1000 del Policlinico di Milano che permetterà la realizzazione di una piattaforma tecnologica in grado di isolare le vescicole extracellulari al fine di creare dei nuovi nanofarmaci innovativi per la cura di diverse patologie, tra le quali le infiammazioni croniche.